Buon Dio ed eccoci al nostro appuntamento di Io resto a casa, mi raccomando, ringrazio tutti per gli auguri di San Giuseppe e per i complimenti. Siamo alla decima favola, io oggi avevo pensato ad un'altra favola, poi mi è venuta l'ispirazione e quindi vi conto questa favola. Tanto diemba fa, in da un paese vasato dal sole e dal mare, c'è stata una panettiera che ogni giorno sfurnava il suo adduroso e morbido pane e tutte le paesane ogni mattina passavano per la panetteria a pigliarsi chilopiezze di pane buonissimo e non c'è stata una giornata feriale o festivo che a chi lo furna non ascesse pane. Lo giorno però succedete una cosa stranissima, chiunque accattava il pane rinde a chi lo furna e tornava a casa per so mangiare subito la roba. Cominciava a ridere e rileva così forte che non ce la faceva più, a signor che stendeva le panna. Rileva, o cuntadini che azzappava la terra, o criatura che chiamava la scuola, rileva, rileva maestra, o brevetà, o sindaca, insomma tutto il maestro. Se teneva la panetta e non ce la faceva più. Rileva, ah 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 e si diceva, ma che maroschia la tenerea a rire da tutta sta gente? Che in tanto non riesco a pescare mai un scurpaniello, ma non mangia fame, che mi mangia stasera? Allora, pigliaio, scomportato e che la pesca inconcludente, se non torna in terra, e incontrai tutta la popolazione che rirevano, e si cercai di capire che rirevano, ma niente, nessuno riusciva a parlare. Intanto il pensiero suo è che la sera non teneva niente a mangiare, e allora passai in domani a terra, e si facette la nuve e se vanno. Tornando a casa, va via, colto da una debolezza di stomaco, staccai una piazza di pane, e allora ho pane a parlare. Uè! Uè! Che fai? Posa subito quello che tiene a mano. Uè, paramamma, che quando ero piccolino mi riceve, e puso quello che aveva acchiappato quei mani, ricetto pescatore. Tu l'hai abusato, perché non vedi quello che sta succedendo in tuo paese, tutta la gente che rire. Sostante io, hanno scusa di chi lo povero panottiere che non sape niente, ricetto pane. E perché hai fatto sto rispietto, ti ha detto pescatore o pane? Perché è una punizione che ogni tanto, qualcuno dall'alto, forse dal basso, e da ogni dove, non si sa, chiede all'umanità. Una specie di pausa, per capire chi siamo, aroiam, che facciamo. Ma, perciò, tu, ora va a dicere a tutta l'abitante del paese e tornarsene a casa, e rumanè inserrata a Ind, insieme a tutta la famiglia, e non nasci finché non far nascene i rirara. Solo quando hanno fornuto i rirara, poi nasci. E così, o pescatore, gli ha detto, e dicette a tutta l'abitante del paese, che aveva ritto pietze e pane. E allora, tornai nella casa, e piano piano, piano piano, ha risato passaggio. Ma, verica a voi, questa è una favola, che finisce bene. Facciamo finire bene anche quello che sta succedendo oggi a noi. Perciò, mi raccomando a tutto quanto, rimanete a casa. Grazie. A domani.